giornata molto tecnica volumi leggeri in attesa dei dati economici per attesi più avanti in settimana indici che si sono mossi appunto in modo molto tecnico cominciamo dal dax che è andato a toccare al tic 15 802 che era il massimo del 14 giugno di un mese fa quindi rimane ben saldo all'interno dell'ampio range di cui abbiamo parlato nei video scorsi apparentemente c'è una rottura della volatilità di stop line confermata dal cambio di colore dico apparentemente nel senso che abbiamo visto numerosi falsi segnali nelle ultime settimane e quindi prima di poter decretare definitivamente finita questa fase laterale dobbiamo vedere diversi segnali tecnici comunque oggi c'è stato l'avvicinamento ai massimi che sono stati toccati abbiamo finito con una candeletta qui siamo sul grafico a due ore con una candeletta di pausa quindi domani vediamo se questa corsa iniziata dal famoso 15 350 il livello che era già stato difeso dalle mani forti il 21 giugno e l'ibis c'è stato l'otto di luglio quindi un doppio minimo importante una rottura verso l'alto aprirebbe la strada come detto venerdì a una nuova gamba rialzista con area obiettivo obiettivo tecnico 16 mila da cui previsioni non se ne fanno la palla non ce l'ha nessuno quindi non stiamo dicendo che l'indice andrà a 16 mila diciamo che da un punto di vista tecnico si possono porre le condizioni per uno scenario rialzista qualora appunto questi livelli di resistenza 15 8 venissero rotti con i criteri tecnici che vedremo poi man mano nei prossimi giorni movimento tecnico anche per il fuzzimib diverso da quello del dax che si è portato ai massimi il fuzzimib è ancora in una fase vedete incanalato con una configurazione di massimi decrescenti e minimi decrescenti qui siamo sempre sulla scala due ore oggi si è portato sulla fascia di resistenza data la volatilità stop line nera e la media 200 che è stata rotta a ribasso il fuzzimib essendo più pesante come indice dal lato dei finanziari che come abbiamo visto la settimana scorsa anzi nelle ultime due settimane hanno particolarmente sofferto il calo dei rendimenti quindi l'indice fuzzimib rispetto al dax è sicuramente dal punto di vista tecnico più debole almeno fino ad oggi stessa cosa e veniamo all'america per il russell che vedete nella stessa identica situazione del fuzzimib con media 200 e volatilità stop line in fase negativa che stanno in questo momento facendo da resistenza il russell ha chiuso invariato molto tecnico il nasdaq che è andato a toccare il massimo però rispetto al dax molto più recente questo è il massimo del 7 luglio anche oggi toccato praticamente al tic da parte di questo etf chiusura un soffio dal massimo stessa cosa per il dow jones che è andato a chiudere sul livello del addirittura qui andiamo indietro fino al 10 maggio quindi oltre due mesi questo etf dia con chiusura a 350 quindi un soffio sopra il massimo precedente di maggio quindi vedete una situazione molto tecnica che avrà degli sviluppi nel corso di questa settimana a valle della pubblicazione di dati macro molto importanti chiuderei dando un'occhiata a oro e argento passerei però su scala daily per questi strumenti non ci sono particolari novità l'oro continua nel suo tentativo di raggiungere area 1.800 e 30 dove ci sono le prime resistenze oggi tutto sommato un'altra giornata di accumulazione con minimi ben comprati e direi la stessa cosa per l'argento che sta consolidando la base in area 26 e 2 vediamo se troverà gli spunti per far partire una leg verso area 27 che è la prima il primo livello di resistenza importante va bene oggi solo un video di aggiornamento un po più breve e domani avremo penso diversi argomenti in più da affrontare compresi i vostri quindi nel senso lasciate pure nei commenti eventuali situazioni interessanti da un punto di vista tecnico che volete segnalare o eventuali domande lo stesso per gli amici che ci seguono da youtube ringrazio tutti quanti sempre dei commenti molto apprezzati su entrambe le piattaforme su trading view e su youtube aumentano gli iscritti e quindi grazie a tutti per il supporto che date a questo canale per il momento vi auguro buona serata grazie per attenzione ci diamo appuntamento a domani